Dopo mesi di atteste tra dibattiti e polemiche, quella odierna dovrebbe essere la volta buona. Il governo, guidato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, potrebbe dar corso ad un annuncio fatto da settimane e confermato nelle ultime ore. Da Roma si attendono notizie precise sulla nomina del possibile successore di Giuseppe Scopelliti, decaduto da tempo da commissario ad acta per il piano di rientro dal deficit sanitario. A chiarirlo ieri il Presidente facente funzioni. Attendo con particolare attenzione alla nomina che dovrà fare il governo Renzi come comunicatomi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Queste le parole di Antonella Stasi, rilanciate da una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale. La decisione tuttavia arriverebbe al termine di ritardi accumulati a ritardi, soprattutto per la mancanza di condivisione sul metodo e sui nomi in una maggioranza eterogenea come quella che guida il nostro Paese. Il ritornello si è ripetuto per questo come per altri provvedimenti. Serve un politico oppure un tecnico? Alla prima opzione si è fermamente opposto l'ex governatore, sostenuto dal Ministro della Salute del suo partito Beatrice Lorenzin. D'altronde un uomo del PD, alla guida del martoriato sistema sanitario calabrese, sarebbe stata davvero una beffa per l'ex capo dell'esecutivo che dopo aver razionalizzato la spesa si è visto sollevare dal proprio incarico al momento di raccogliere, diceva lui, i frutti del proprio lavoro. Certo, lo stallo del dopo scopelliti non ha portato bene, basti pensare che la regione non è stata neppure convocata all'ultimo tavolo interministeriale sulla sanità, da qui la necessità di mettere fine alle meline ed affidarsi ad una figura che si occupi esclusivamente dell'intricata matassa.